al 16 ottacione, getta macchina che prende velocità al comando c'è Ontarius alle prese con Nugo di Azzurra e Ornellaia lunga che fa partenza veloce ma insiste Ontarius insiste Ornellaia, insiste anche Nugo di Azzurra, tre su una linea ma Ornellaia sembra passare su Ontarius, poi c'è Nugo di Azzurra che rimane a largo si mette brutto, allargo anche Maiopo Bridge, l'errore dietro di alcuni concorrenti ed è Ornellaia a menare la danza nei confronti di Nugo di Azzurra allargo del numero di Ontarius quindi Maiopo Bridge, Nugo di Azzurra allargo di Ornellaia quindi Ornellaia, Nugo di Azzurra, Ontarius Maiopo Bridge, poi il numero 9 di Yabin, lungo i birilli Odetti in Ronco poi gli altri al comando sempre e comunque è il numero 5 di Ornellaia con Nugo di Azzurra che fa gli straordinari allargo quindi Ontarius ancora Odetti in Ronco poi Maiopo Bridge, Nugo di Azzurra che si stema dietro perché Ontarius sembra aver letto tutto quindi Ornellaia, Nugo di Azzurra poi allargo Maiopo Bridge quindi Odetti in Ronco Yabin dalle retrovie lo scatto da parte di List of Thor quindi Ornellaia lungo sempre al comando su Nugo di Azzurra poi c'è ancora List of Thor che viene via in maniera piuttosto decisa Ornellaia che controlla la situazione e prende margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori capeggiati da Nugo di Azzurra che deve vedersi con List of Thor che ha ancora qualcosa da dire entrando in retta d'arrivo c'è il numero 5 di Ornellaia lunga largo e nibbiano non è List of Thor ed è Ornellaia lunga che viene a vincere facilmente a centropista e ci prova Lampo di Re ma Nugo di Azzurra è secondo terzo su una linea sono in tre e si tratta del 10 di obgetto oggetto M poi nibbiano e anche Lampo di Re 5 2 lampo di Re